Qual è secondo te un artista, o se anche tu stesso pensi di essere così, qual è un artista che secondo te invece è consapevole di se stesso e ha ottenuto risultati che effettivamente si meritava? Ma vuoi un nome contemporaneo? No, qualcuno che secondo te può effettivamente rispecchiare quello che stai dicendo, insomma. Chiaramente conosco tantissimi artisti e a volte anche da vicino e quindi ti posso parlare di persone che hanno la testa sulle spalle e posso fare un nome. Per quello che ascolto io, secondo me Jacopo Incani, cioè io sono un cane, è una persona che è completamente conscia dei propri limiti e dei propri difetti. Per esempio lui è una persona che ha molto da sviluppare soprattutto, cioè non è uno che dice delle cose qualsiasi, cioè ha un discorso personale molto originale. Cioè a molti anche non piace e io pure trovo magari dei punti in cui magari non riesco ad avvicinarmi più di tanto. Però secondo me è una persona molto lucida, ecco, facendo un nome di artisti italiani contemporanei che poi sostanzialmente sono della nostra età e quindi ben volentieri. Naturalmente facendone uno faccio anche un torto a qualche altro che sfortunatamente non mi viene in mente. Invece, secondo me, tra le figure mitologiche, non certo per me, perché io, cioè veramente di miti non ne ho, però credo che tra i grandi artisti, i cosiddetti grandi così, uno che nonostante magari sofferenze, sbandamenti e chissà come adesso viva la sua vita, e io credo che uno che non ha mai perso lo smalto di se stesso è Francesco De Gregori, mi sento di salvarlo in questo senso. Secondo me, per esempio, la sua scomparsa dalle scene, progressiva, poi si vede e non si vede, sempre meno dichiarazioni, è sintomo certamente di una chiusura in se stesso e forse è il prezzo da pagare per rimanere un po' sani e fedeli alla propria nascita. Mi fa piacere che secondo me siete molto genuini, se posso permettermi questo termine, ed è davvero bello. Per persone come me e come i miei colleghi che trattano di gruppi, che magari sono anche emergenti, non è sempre detto di trovare persone che siano molto, non dico umili, ma che sono così come sono. La parola umile in realtà non mi piace per niente, perché io in effetti sono più per la proiezione nell'aspettativa, sì, non lo posso negare. Cioè, ho passato degli anni cercando di mantenere un profilo basso, cercando di un po' rassegnarmi, così. No, io secondo me non devo negarlo, però sempre rispetto a quanto abbiamo detto precedentemente, ovvero che l'aspettativa o l'ambizione non è una cosa che deve cambiare te e il tuo modo di fare. È davvero un punto di contrasto molto forte, cioè per questo magari se ne soffre forse il doppio, quando per esempio i risultati non arrivano, nel senso capita di suonare davanti a un pubblico che si disperde, oppure tutto dipende dal campo semantico che si sceglie, perché si può semplicemente dire, beh, se il pubblico non segue vuol dire che qualcosa non è comprensibile, oppure che lo stai facendo male. Il punto è, come si diceva prima, che va bene l'aspettativa e quindi insistere sul voler comunicare. al maggior numero di persone possibile, indubbiamente, ma non cambiando la tua maniera di comunicare, che poi per altri versi sarebbe anche un po' giusto, nel senso fare un passo, intercedere, il fatto comunicativo si crea tra due enti, cioè uno che dà e uno che riceve. Quello che tu vivi è importante ed è quello che deve essere comunicato, in virtù di un'unica filosofia, che ogni vita è importante. Quindi al posto mio, per esempio, o al posto di Renzo, potrebbe esserci chiunque. Ma te sei contento di quello che fai? Ma io non sono mai contento perché altrimenti non avrei più il dubbio e quindi di conseguenza la possibilità. Preferisco mantenere un dubbio e quindi non essere contento. Preferisco in un certo senso annoiarmi di quello che raggiungo e fare qualcosa di nuovo, di volta in volta. Poi, tanto, il discorso è valido per tutte le persone che fanno musica. In ogni caso, la tua cifra stilistica emerge. Si vede, si esce. Chi ti ascolta, tu magari credi di aver fatto qualcosa di completamente differente, ma in realtà si sente benissimo qual è la linea, il filo conduttore tra quello che hai fatto prima e quello che hai fatto poi. Impossibile, secondo me, ribaltarsi completamente. Ma credo che sia anche il bello. Ed è il bello, è il bello, perché che cosa è? È il segno di un'evoluzione, l'evoluzione di una storia artistica. Tu invece hai fatto un unico album. Sì, ho fatto un unico album. Ma anche l'altro è un album. No? No, troppo. No, no, sì, d'ora in avanti credo che registrerò cose un po' più leggere. Nel senso, l'album ha preso veramente un pezzo di vita troppo grosso. Ho scritto questi 22 pezzi in un anno e mezzo, quindi. E ci ho messo sei mesi per registrarli, più altrettanti, per produrli e buttarli fuori. È un tempo troppo alto per essere compatibile con la vita, proprio. Vabbè, magari ti riposo un attimo, poi. Sì, sì, ma me lo dicono tutti. Dai, riposati, riprenditi. No, lui non lo dice. Riposati, riprenditi, dai, puoi non dire così, vedrai che ne fai un altro. Però penso che andrò avanti a fare piccole cose, andrò avanti e buttarle fuori subito. Adesso, mentre fine anno, qualcosa uscirà. D'accordo. Abbiamo completamente rivagato, ma è bello così, no? Cioè, alla fine... Perché? Perché è divagato? No, divagato nel senso che effettivamente non è stato un elenco di semplici cose. Poi ho fatto l'album questo anno, ho iniziato a suonare... Ho fatto il nostro, non so, quello che ho preferito. Quale etichetta? Sì, cioè... L'etichetta, giustamente, andrebbe ricordata, eh, però... Non c'è chiesto niente che potrebbe entrare in una pagina di solare, perché... Sì, noi siamo the dark side of Garincia Disky. Siamo della linea dark side. La Garincia Disky, che è un'etichetta di Bologna, nata da esperienze di amicizia e si sta sviluppando con anche dei risultati notevoli, tipo gli ultimissimi stati sociali che in questi giorni spopolano i social network. Ed effettivamente ci sono... Si possono trovare due anime in questa etichetta. Una dove risiediamo 33 ore, io e nel dubbio, poi magari i manzoni. E gli altri, invece, rappresentano la parte luminosa, l'idrio, devo dire anche sì, piuttosto scantonata. Insomma, comunque è un'etichetta ricca e sfaccettata, questo lo dimostra proprio questa varietà di produzione. Siamo contenti di lavorare con Garincia Disky, perché poi a tutti gli effetti, essendo un'etichetta nata nel piccolo, e adesso pian piano sta diventando sempre più importante, insomma, con una determinata stratificazione delle operazioni e della produzione. Però in realtà abbiamo partecipato magari a qualcosa di pratico per l'etichetta. Si trattava di vera e propria coproduzione, quindi prendere decisioni insieme, fare anche del lavoro, semplicemente. Io magari ho fatto dei disegni, è piacevole, è bello. Poi possiamo andare oltre a parlare di gatti, così così, però... Ah, perché oggi è la giornata del gatto. È la giornata del gatto. Allora io vorrei segnalare un sito, non mi ricordo l'indirizzo, però Cats and Cake probabilmente si chiama. Ci sono tante fotografie di gatti con la testa infilata in fette di pane in cassetta. Io vorrei segnalare un altro sito che si chiama Stuff on my cat, ed è pieno di immagini di gatti ricoperti di oggetti. Stuff on my cat.com Io non prendo un dollaro per tutto questo, ovviamente. Però ci va in esatto a vederlo. Però molto spesso ci vado a vederlo. Diamine, oggetti sopra i gatti, cioè, internet è stato creato per quello. Questa è la nuova arte, ricordo. E' vero, hai detto una cosa intelligentissima, è vera, questo era internet una volta. Cioè, basta con questi social network dove... Basta, i gatti, vogliono i gatti. Cioè, internet è nato per due cose, il gatti e il porno. Non è che ci sia molto da... No, per tre cose, anche per l'effetto blink, cioè quegli oggetti che le scritte tipo... Lampeggiavano. Le gif animate che lampeggiavano. Queste tre cose servono. Cioè, non si deve fare i fighetti e dire che internet serve per lo stampa libera. No, ma chi se ne frega. È tutto finito, è tutta una farsa. Guarda, tu comunque stai registrando con un iPhone, ti rendi conto? Cioè, in questa nuova generazione, tra l'altro, santo cielo, cioè... Tutti i presidenti delle nazioni del mondo sanno dove ti trovi adesso e sanno che cosa stai registrando. No, voi ci scherzate, ma molto spesso a TG si vedono giornalisti che fanno le interviste con l'iPhone davvero. Eh, ma registra anche bene l'iPhone. Il punto è che è una conquista. Forse dovrebbe dirlo lui, lo sai. No, perché dovrebbe dirlo io? No, allora lo dico io che non sono l'esperto, dai, prova a dirlo con parole mie. Cioè, sono gli oggetti che ci porteranno ad avere le mani sempre più ravvicinate, non lo so, senza possibilità di toccarci intorno. E l'esperto è d'accordo? No, l'esperto ovviamente non è d'accordo, ma è bene che sia così, perché per me ogni mezzo è buono. Cioè, senza le tecnologie non saremmo riusciti a registrare, non saremmo riuscito a, boh, diciamo questa cosa orribile del promuovere, a far ascoltare. Nessuno di noi avrebbe mai ascoltato l'altro. Io ho scoperto lui su MySpace, cioè l'ho ascoltato la prima volta, ho pensato fosse una cosa molto bella, molto innovativa, l'ho seguito, ci siamo conosciuti così. Quindi non è che tutto sia da demonizzare, va demonizzato un certo uso di internet che non preveda gatti o porno, però laddove sono gatti e porno va bene tutto. Esatto, tutto rimane nelle mani delle persone, nella scelta. Sì, 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 assolutamente, cioè è un mezzo. Quindi idemma è l'iPhone, sull'iPhone posso scrivere il nuovo romanzo che entrerà nella storia, non mi importa, ci metterò più tempo, però lo posso scrivere. Poi non lo faccio o meno, solo un dettaglio, comunque mi avete dato una buona idea. Di la verità. Come si chiama? Notepad? Notepad. Ecco. D'accordo, ragazzi, io vi ringrazio di cuore per questa, almeno per me, bellissima chiacchierata, vi faccio un grande in bocca al lupo. Viva il lupo. Viva il lupo. Perché noi non mangiamo gli animali. Sì, assolutamente. Esatto. Non si può dire, non so, si può dire. Qua qua in Toscana... No, assolutamente. Questa frase qua la metti alla fine dell'intervista, se non la metti all'inizio non ascoltano più. Ci boicottano. No, vabbè, diciamo che siccome questa cosa me l'hanno già detta, specifico che in bocca al lupo è metaforicamente, dai. Bene. Grazie. 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 Grazie.